Un piccolo gesto, ma che per qualcuno vuol dire davvero tanto. Un segno di vicinanza e solidarietà nei confronti di chi, in un momento drammatico come questo, in piena pandemia, sta combattendo in prima linea negli ospedali per sconfiggere un nemico che non si vede, ma c'è, il coronavirus. L'iniziativa è dei ragazzi della Brigata Fidelis, uno dei gruppi organizzati del tifo andriese. Di striscioni sono abituati a mostrarne tanti per sostenere la squadra della città, in casa come in trasferta, ma questa volta il loro messaggio più bello lo hanno voluto dedicare a chi sta giocando una gara ben più importante, non in un campo di calcio, ma in corsia. Oggi come ieri, di voi siamo fieri, grazie a medici e infermieri, così recita la scritta comparsa la notte scorsa sulla facciata esterna del bonomo di Andria, uno dei tanti presidi ospedalieri messi a dura prova durante l'emergenza Covid. L'omaggio del tifo bianco azzurro ha lavoro spesso eroico che gli operatori della sanità stanno portando avanti in questi giorni difficili per prendersi cura dei tanti pazienti colpiti dal virus, oltre che di quelli ricoverati con altre patologie. Lo avevano già fatto nel mese di marzo, nel corso della prima ondata dei contagi. Hanno voluto ripeterlo anche adesso, in questa nuova fase della pandemia, per far sentire ancora più forte il loro coro per i campioni in camice bianco, come nel secondo tempo di una partita che non è ancora vinta.